Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono in compagnia di Belze perché tutti gli altri sono spariti magicamente Salve! Ecco, e visto che siamo solo io e lei abbiamo deciso di portarvi qualcosa di diverso da Minecraft E visto che avevamo Tricky Towers sotto le mani abbiamo deciso di portarvi questo video uno contro l'altro, un torneo da tre Yes! E chissà chi vincerà tra i due, mamma mia! Sicuramente Belze che c'ha più logica su ste cose, quindi vincerà lei Però come è promesso dalla live me l'abbiamo portato Giustamente, quindi lasciare tanti mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi E andiamo a mettere questa battaglia a impostarla Ok, siamo pronti ragazzi, siamo pronti alla battaglia, abbiamo scelto i nostri personaggi Io sono una strega con il naso a punta e Belze e Belze perché lei lo stesso ciuffo Sono bellissima, lo stesso tuppello Mamma mia che roba, ok vai, si parte, via Via! Mini torneo, mini torneo per noi Guardate che faccino, è bellissimo Sopravvivenza, subito subito eh Io non mi ricordo come si gioca Sono i tre cuoricini, stai attento amore Ogni pezzo che casca, perdi una vita Hai tre vite Ok Va bene Olè Questa è una rottura di balls come modalità Veramente tanto, ok? Cerchiamo di farlo più stabile possibile Oddio, perché dissi i pezzi rompi scatole? Allora Che cosa fa quella magia? Ok Crea una strutturina più alta Alla faccia tua No, sono un cretino Oddio che c'è mancato Vabbè però sono tardo davvero eh Ok, proviamo a metterla alla Non casca Era andato troppo veloce Stavo a far casca tutto Bravo Intanto sto ancora vivo C'ho ancora tutti e tre i cuori No Ah 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 E sta bene Cattivo pezzo Ma che è? Ho fatto la nebbia Ma lol Ho messo la nebbia Uccido comunque No No, non cascare No, ho messo a perdere un pezzo Eh no, è cascato un pezzo Un cuore Ah, tu hai perso due cuori GG No Ho vinto Ma cosa è successo? Hai fatto cascare tutto La nebbia E' piaciuta la nebbia eh No Vai ecco la seconda modalità Competizione normale Anche arriva prima Ma che progione Lui è sta nebbia Io non è vero No Ma questo gioco ci sta la possibilità di farlo Perché non farlo? Eh E perché non si fa Come non si fa? No Non ci devi avere i privilegi perché sei la mia ragazza eh E poi c'eravamo messi d'accordo e facevi vincere me Ma quando? Non direi queste cose in giro che ci guarda Ma non ti ricordi? Mamma mia Me lo ricordo sicuro Non è vero Peglietti Regà Non gli credete? Depende un po' troppo sto coso Ah Un attimo è sceso troppo veloce Lalle Ok Facciamo una cosa del genere Così lo rendiamo stabile Olè E qua Sembra che stiamo riuscendo a creare una cosa abbastanza stabile Dai Sta andando anche troppo di lusso Ok Devo riaddrizzarlo Quindi metto più peso di qua Ambe di Morduk Come se dà Beh Non cantare vittoria troppo presto No Vabbè No No Ma c'è la miseria Ti è piaciuta eh Che è successo? Che hai fatto tesoro Amore No Schifosa E io faccio così No Non è uscito Non ha funzionato Oddio Scivolano Me l'hai ghiacciati Schifosa Questo lo lascia andai Oh Scivolano pure da fermi No Non va bene questa cosa Oddio Stava a far cascar tutta la struttura eh Me l'hai tirato un altro No no Ah ok E allora devo fare una cosa No Rghiaccio Eccolo qua Eccalo Guarda il ghiaccio tu Ancora persiste Che carino Che hai via del pallocino Oh C'è il palloncino Mannaggia Sono palloncino Guarda che come sto messo Per te E quando Questa torre Non sa da far No Guarda se arrivi tu Lassopra Oh è cascato tutto Ah Quanto sono contento No Però casca pure a me La roba Non va bene Va bene Non so più come metterla adesso Allora Spreghiamo pezzi No Stavo per farla Cretinata Stavo per farmi fuori Tutta la mia torre di qua Vai Vai Oh Tre Due Uno Guarda come te la metto Ti è Ti è Ti piace così Stordo Che meraviglia Mamma mia Mordo che si porta a casa Il primo mini torneo Ah vedi Ti voglio la rivincita Ragazzi Se volete vedere la rivincita Di questo mini torneo Me contro bells Cerchiamo di arrivare Almeno a 50 like Per questo video Quindi lasciate tanti mi piace Condividete il video Iscrivetevi al canale Se siete nuovi E ci vediamo Alla prossima puntata Di Drinking Towers Sempre con bells Ciao